questo pezzo insieme andiamo io, dove stanno i famigli e ci vediamo? Gino come sapete c'è le bande? un'altra ok ok Gino come serve? mi devi capire molto bene le donne a suo gesto non sa scettate e le grazie non aviami e le donne a un'altra e le donne a un'altra come solo le donne a un'altra e la dame c'è un'altra e la dame Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.